Auspicchiamo una gestione illuminata. Con questo augurio l'assessore allo sport del comune di Sassari, Rosanna Arru, inquadra uno dei punti cardine alla base del nuovo regolamento per la conduzione degli impianti sportivi. Un testo fermo dal 2002, discusso nella quinta commissione della seconda consigliatura campus, passato poi al vaglio della consulta dello sport, ritornato questa mattina al punto di partenza e promosso con nove voti favorevoli, con una filosofia generale dettata anche dalle casse vuote comunali e dall'obiettivo di assegnare ai gestori una maggiore responsabilità, di manutenzione, ordinarie e straordinarie anche, come precisa la Arru, di promozione sportiva. Intanto, la normativa introduce una classificazione tra società a rilevanza o non rilevanza economica, prevedendo per quest'ultima la divisione tra impianti cittadini e circoscrizionali, canoni quasi irrisori per le piccole società, ma anche la possibilità di rifarsi sulle spese di luce e acqua, assegnando il 30% della disponibilità dei campi a società esterne, una percentuale che si riduce al 20% per i gruppi con rilevanza economica. In primo piano anche la durata delle concessioni, che dai 6 anni passa ai 3 più 5 per le piccole società e ai 10 anni per le grandi impegnate con investimenti onerosi da ammortizzare. Infine il capitolo delle palestre scolastiche, le uniche su cui rimane la gestione diretta del comune. Su queste si avvieranno due confronti con le scuole, uno a luglio e l'altro a ottobre, per individuare un programma di utilizzo delle strutture. Ora il nuovo regolamento, come da prassi, passerà in consiglio comunale per la definitiva approvazione.